Poco più della metà degli utenti social, precisamente il 54%, è d'accordo con chi ha contestato la ministra Rocella al Salone del Libro, impedendole di parlare. Il 90% degli utenti invece è del tutto contrario alla protesta di ultima generazione e quasi l'unanimità simpatizza con i ragazzi in tenda che fanno sentire la propria voce contro il caro affitti. Perché allora per tre proteste abbiamo tre reazioni così diverse tra di loro. Generalmente quando sui social prende piede una forma di dissenso, la prima differenza la fa chi si sta attaccando. Se l'oggetto della contestazione è un politico o un personaggio pubblico e intervengono i cosiddetti opinion maker che spingono le persone a prendere una posizione, è molto probabile che ci si trovi di fronte a una polarizzazione delle opinioni e quindi a una distribuzione degli utenti tra i due fronti. Questo ad esempio è il caso dell'amministra Rocella. Se invece ci si muove contro il sistema in qualcuna delle sue forme, soprattutto denunciando ingiustizie che hanno ricadute sulla sfera sociale e collettiva, allora le persone tendono ad aderire manifestando solidarietà. Questo è il caso dei ragazzi in tenda contro gli affitti troppo alti. Attenzione però perché affinché si generi questo sostegno da parte degli utenti è molto importante la modalità con cui si protesta. Quella dei giovani tenda è genuina e spontanea e lo strumento che utilizzano per far arrivare il messaggio funziona allo scopo. Al contrario, l'ultima generazione di fatto attacca un patrimonio comune e quindi di tutti i cittadini, che si sentono inevitabilmente minacciati e non si spingono nemmeno a considerare se siano d'accordo con la denuncia dell'emergenza climatica, ma si fermano a condannare le modalità di questa protesta. Attenti quindi a come portate avanti le vostre proteste sui social perché le piattaforme sono sì un ottimo strumento per amplificare i messaggi, ma anche per affossarli. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!